Nessuna sviolinata, i complimenti se li meritano davvero tutti. Uno per uno i ragazzi volontari dell'associazione Agora. Il successo del primo festival del pensiero critico Trentino 2060 è tutto merito loro e della cassa rurale Valsugana e Tesino. Hanno creduto fino in fondo alla bontà del progetto, proponendo una tre giorni di riflessioni, dialoghi ed approfondimenti su questioni di stretta attualità. Temi che permeano la vita pubblica e privata delle generazioni più giovani e la risposta della gente è stato per loro il premio più bello. La strada è quella giusta, la cultura, quella con la C maiuscola o capitale, si può ancora fare e davvero bene, dimostrando che dialogo civile, confronto e proposte di qualità, sebbene organizzate e pensate, ci aiutano a capire il nostro presente e pensare al futuro che vogliamo e che dobbiamo costruire tutti quanti insieme. Anche in Valsugana la gente è sempre più affamata di cultura. Le persone che hanno riempito le piazze e le corti di borgo aiutano e stimolano i giovani organizzatori ad essere sempre più protagonisti del contesto in cui vivono. Grazie ragazzi, 1200 volte grazie del vostro impegno e grazie a chi ha creduto fino in fondo alla bontà del vostro progetto.